siamo pronti ad andare sull'erba perché bisogna sempre andare più a caccia di questo manto bianco pronti per partire adesso ingaggiamo subito il sentiero di erba Sì finalmente abbiamo raggiunto il pezzo dove si possono mettere gli sci oggi c'è Anne, Marco e Cri Dov'è che saliamo oggi? Com'è che si chiama? Paper in orno o qualcosa e via che si parte un trattore davanti no, facciamo un cazzo un po' più piano e adesso viene più attivizzato tiralo un po' tiralo Rino, fare il figo no Here we go! Sì Si sta però annuvolando tutto Porcaccia Questo qua al sole È il Piz Beverin Guardala qua Com'è la prima uscita Fantastico Manca un po' di sole Ma magari è meglio Ma adesso forse ci arriviamo Se non scomparre prima Pausetta prima degli ultimi 400 metri Che ci separano dalla vetta Un po' di sole La civa è su qua. Ormai mancano gli ultimi direi 200 metri, siamo a due e quattro, siamo a due e quattro, mancano gli ultimi 200 metri più o meno, il suo è circa due e sei qualche cosa, sono mille oggi, sì. Svece! Grazie per la visione! Grazie a tutti.